Ciao a tutti, io mi chiamo Elia, io sono un appassionato d'auto, anzi meglio dire un malato d'auto chi volesse iscriversi al mio canale sarebbe venuto oggi faccio questo video perché mi sto recando in Emilia, io vivo a Bolzano, vicino a Bolzano per andare a ritirare un Audi S8 che era il mio sogno a fine degli anni 90 quando è uscita e quando è uscito il mitico film Ronin con De Niro l'ho presa, era un po' malmessa e con Onji è finito il mio restauro e finalmente la vado a prendere una macchina che ho già provato e che veramente mi ha entusiasmato non avevo mai posseduto una macchina che avesse più di 300 CV come ci andrò? Ci andrò con la 993 che vedete qua alle mie spalle e con cui ho fatto già qualche piccolo video perché ci andrò con la 993 lo scopriamo adesso e vediamo lì alla fine del viaggio quanti chilometri avrò fatto e quale sarà soprattutto il consumo i risultati 332,7 chilometri 10,5 litri per cento chilometri beh, non è male no? ben arrivato in Emilia Romagna e non potevo che incontrare sai cosa trovo subito? eccomi qua, la macchina l'abbiamo presa, è qua alle mie spalle per me è uno spettacolo eccomi qua, la macchina l'abbiamo presa, è qua alle mie spalle eccomi qua, la macchina l'abbiamo presa, è qua alle mie spalle eccomi qua, la macchina l'abbiamo presa, è qua alle mie spalle eccomi qua, la macchina l'abbiamo presa, è qua alle mie spalle eccomi qua alle mie spalle Nell'ottica di non mancare mai niente sosta a Verona per prendere un mega modello radiocomandato. Eccomi qua, il viaggio è finito, spero che vi sia piaciuto questo video, entro breve farò il mio report sul restauro che sto facendo della Maserati Biturbo, mi scuso per l'audio perché non ho il microfono, adesso penso che farò diversi contenuti su quest'auto eccezionale, davvero entusiasmante, quindi se volete seguitemi. Ciao a tutti!